Sono 14 le misure cautelari emesse, di cui 12 in carcere, nell'ambito dell'inchiesta su presunte estorsioni di stampo indranghettista avvenute in Lombardia, Marche e Calabria. Secondo la direzione distrettuale antimafia, al vertice del gruppo vi sarebbe il calabrese Vincenzo Facchineri, membro di una storica andrina della provincia di Reggio Calabria, che avrebbe costruito una solida rete nel Bresciano e operava per introdursi, con denaro prestato ad usura, intimidazione e minacce, nel tessuto economico della provincia. L'uomo poteva vantare anche collegamenti con storici esponenti della banda della Magliana e della mala del Brenta. L'indagine della direzione distrettuale antimafia di Brescia è stata avviata nel dicembre 2020, quando un libero professionista residente nel Bresciano, esasperato e stremato dalle continue minacce e pressioni psicologiche patite, aveva deciso di denunciare. Nei mesi precedenti, trovandosi in difficoltà post-lockdown, aveva chiesto soldi a soggetti legati a Cosche dell'Andrangheta. Il Bresciano ha raccontato di essere stato vittima di estorsione messa in opera da due persone, le quali, dopo essersi proposte per intermediare un debito economico di 50.000 euro che il Bresciano aveva con un imprenditore estraneo all'inchiesta, lo avevano costretto a versare, con diversi bonifici a loro favore, la somma complessiva di 19.500 euro di interessi, oltre ai 45.000 euro già consegnati in contanti.